vediamo eccolo qua siamo a piti 36 con la prima singola 36 37 38 39 40 41 42 via sta cosa 43 43 40 metro siamo un pacchetto 1 esatto 78 è questa no mi ha detto 80 no allora no l'eliana ha detto 79 se esce la prossima ed è brogna ragazzi qui c'è un problema di fondo qui c'è un problema qui c'è da andare all'urde direttamente dall'eliana sicilia quello è il vero l'urde vai ecco franzo ha detto la prossima l'ha detto franzo è questa no vabbè è il 79 no ora no se è brogna ragazzi se è brogna attenzione povero pompon no ragazzi se è brogna no ma come no hai vinto un 55 mata fortissimo abbiamo vinto quindi potete rendere i punti e simone li ha persi tutti ok andiamo un bacino anche a melania nel frattempo vediamo eccoci 5 stelle ci siamo amici chiamiamolo tutti insieme questo insieme questo ruocia se no albi verrà bannato 76 basta questa 77 78 oh siiii dai vai vedete lo sciicco biondo siiii vai andiamo albi l'aveva scherzo e ti lascia molti ci siamo cinque stelle abbiamo il potere di sottila la nostra 75 76 ok 77 78 oh se è 79 potrebbe essere lui eh 79 ok no 80 uioi dov'è 81 totti amo ragazzi spamming chat allora niente bollini però probabilmente ti ho detto hai intorno ai 16 personaggi quindi dovresti essere a 17 18 adesso e infatti torna perché io ho tipo 4 5 5 stelle e tu ne hai 3 quindi è la differenza di numeri tra me e te è questa quindi ci sta al bollino non ci sarebbe sta a prescindere allora 75 76 76 77 78 oh 79 davide no 80 oh dov'è 81 oh no eccoci l'ho chiamato ora potrebbe essere yang shin obelt ho detto attifare allora eccoci ok 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 e intanto non si va oltre ed è già qualcosa perché qua non si deve scontare o nulla ok ok allora allora se ha 78 ha ragione deliana allora questo è 75 oh no subito eccolo brava stella maffa via ok lo apprezziamo così sì letteralmente meglio di franzo comunque oh 5 stelle oh mio dio zappa oh mio dio ma allora franzo mi ha scritto una cosa in chat aveva detto io l'ho letta l'ho letta vediamo se è vera allora 5 e va bene qui a che piti siamo in questo momento tipo 40 30 tipo 40 è lui oh mio dio è luca è luciano è luciano luciano quello di mercato 5 stelle ci siamo è arrivato riccardo vediamo se riccardo blessa o meno vediamo se riccardo blessa o meno allora se arce vince il 50 e 50 albi porta le gole d'ora a tutti è vero ma me l'ha scritto in privato anche se perde vediamo prossima 76 dai è albi vuoi dirlo tu arce per favore tu vuoi avvenculare me eccolo cazzo raga ci siamo e questo l'ha detto al banner se il banner non gli dà l'arba giusta vediamo ok va bene oh yes dici che adesso c'è sono sicuro si 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 potrebbe anche non esserci si si c'è se no era da lanciarsi dalla finestra Simone te lo dico ti davo io il benvenuto vola pom pom vola no no vediamo ok è da vedere per rendere il no ha vinto il no perché siamo alla 75 ok noi possiamo procedere 76 oh 77 77 vediamo se ce n'è un altro 1 2 3 su only fans 5 6 6 e 7 7 ok se esiste volo siamo a 20 vai si va a 30 let's go oh Fede Fede è già qui è già qui è già qui c'è anche la mamma io veramente aiuto aiuto oh nuova 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 un light con il nuovo oh quindi è garantito un personaggio del banner se esce veramente lei insieme a lui o morta da dov'è non so ste robe non le voglio dov'è eccolo preso preso grazie per il fallo preso preso esatto quindi alla sesta alla sesta qui se si ho fatto la chiamata col superiore adesso primo oh oh eccoci eccoci sì sì infatti simo non è novanta incredibile anzi grazie grazie a te grazie a Nike grazie a France grazie ad Albi grazie ad Arce grazie alla Nervosa grazie a Davide anche grazie a Franz e anche al finto americano grazie a tutti perché come primo giorno del mese per questa campagna delle sabbi siete stati pazzeschi quindi grazie no no grazie così veramente grazie ok vediamo 2 3 3 no è arrivato è arrivato prima del dovuto però piti 68 quindi early piti ha vinto il sì viva sì davvero ho detto 70 ma per il più forte il più bravo il più niche sono early piti evviva non è vero sono qui però qui tutti early pure guardando intensamente è stata una bella visione torno indietro stavo facendo il cospelle di Anna che gioca a League of Legends incredibile che bella multi c'era sia il piatto principale che il dessert top alla grande il pasto è servito che bella